Buonasera, bentornati a TG Economia. Tanti anni fa c'era una popolarissima trasmissione televisiva con questo titolo che è Il prezzo è giusto. I concorrenti, lo ricorderete, dovevano individuare e indovinare il prezzo di diversi prodotti che venivano presentati. Nel 2013 a Roma quattro turisti inglesi in gita nella capitale si sono visti recapitare uno scontrino da 64 euro per quattro coni gelato. Sempre a Roma, qualche anno prima, nel 2009, 700 euro di conto per un pranzo di due giapponesi e nel conto c'era stata infilata anche una mancia non propriamente volontaria da un centinaio di euro. A Venezia l'altro giorno oltre 500 euro per un conto per un pranzo per tre persone. A questo punto è lecito chiedersi se il prezzo fosse giusto oppure no. Sono stati truffati questi turisti? Sono stati sproveduti perché i prezzi erano esposti e non li hanno letti? Il saggio direbbe, dipende da che cosa hanno mangiato? E allora i signori di Venezia hanno mangiato tre piatti di spaghetti al nero di seppia, 20 ostriche fresche, pesce e gamberi grigliati. Il tutto in piazza San Marco. Buonasera e benvenuto al presidente di Feder Consumatori, Emilio Diafora. Buonasera. Salute e ringrazio anche il direttore generale di FIPE, la Federazione Italiana Pubblici esercizi Confcommercio, Roberto Calugi. Buonasera anche a lei Calugi. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a voi di averlo accettato. Allora il ristorante in questione dice noi abbiamo portato quello che i clienti ci hanno ordinato, hanno spazzolato tutto, i prezzi erano scritti sul menu, il prezzo del pesce era al grammo, loro non l'hanno capito e quindi il conto è questo. Diafora, se uno va in piazza San Marco e chiede appunto pesce fresco e tutte queste cose, il prezzo è quello? Ma io non discuto se il prezzo è quello o un altro, intanto bisognerebbe avere delle notizie più precise. Prima se c'era una tariffazione e se le tariffe erano comprensibili al consumatore in quel momento, al cliente. Secondo, pesce fresco, che significa pesce fresco? È pescato, è suggerato, è congelato? Se no diventa una discussione un po' tutta quanta teorica. Il terzo elemento è, sì io mangio in piazza San Marco, ma devo sapere quanto è quello che mangio e quanto è quello che pago in termini di, per esempio se ho mangiato alla petto, se ho consumato fuori, se ho consumato dentro e via discorrendo. Il problema è di una informazione più precisa, perché abbiamo tanti casi, non può essere generalizzato naturalmente, ma abbiamo casi di comportamenti non corretti da parte dei ristoratori e di un'altrettanta imprudenza da parte dei consumatori. Perché se io vado in un ristorante o se vado in un pubblico esercizio dove non è scritto quanto è chiaro quanto pago per una portata, il costo del servizio e quant'altro, oppure se mi vengono propinati cibi che non ho ordinato, ho tutto quanto il diritto non solo di contestare, ma di alzare, andarmene, oppure pagare, rivolgermi alle autorità competenti, oppure venire per esempio in fede dei consumatori e noi agiremo contro i ristoratori. Quali sono i diritti dei consumatori in questo caso? Che cosa devono pretendere quando entrano in un ristorante? Come devono essere spiegati i prezzi? Perché questo ristorante dice che i prezzi c'erano sul menu. Sì, ma il problema è come è composta il caso specifico, bisogna inquadrarlo in un contesto. Che cosa deve sapere il consumatore e che cosa deve darti l'esercente? Questo è il pubblico esercizio. Il consumatore deve sapere che ha dei diritti. Il primo diritto è che deve avere un menu in cui per ogni portata non c'è solo il prezzo, ma c'è anche scritto, come diciamo, un po', almeno le informazioni fondamentali, perché se consumo un certo tipo di cibo a un prezzo, se ne consumo un altro a un altro tipo di tariffazione. Quindi 100 grammi a 8 euro, uno può essere indotto a capire male, poi se ne arriva... E' un'ordinaria che è stato pescato in quel momento, no? Calugi... Siccome sappiamo che in Italia... Scusi, prego. Prego. Calugi, non è un po' chiaro un conto da 500 euro per tre persone? Allora, però cerchiamo di fare un ragionamento partendo un attimo dal generale, altrimenti rischiamo poi di perderci il particolare. Quando parliamo di ristorazione in Italia parliamo del primo motivo per cui i turisti vengono in Italia e ci ritornano, quindi adesso ho tutto il rispetto per il caso specifico, però... Questi in Italia non li rivediamo, eh? ...però stiamo parlando, come diceva il Presidente. Seconda cosa, credo che esistano in Italia, dai nostri dati, più di 100 mila, sono 110 mila ristoranti. Faccia una media di 50 coperti al giorno, stiamo parlando di 5 milioni e 500 mila pasti che vengono consumati nei ristoranti italiani. È evidente che possono capitare delle situazioni incresciose che poi devono essere chiarite. Un'altra piccola considerazione è che ormai credo che questo sia uno dei settori più trasparenti che esistano. Diceva giustamente il Presidente dei consumatori, ancora dal 1940 esiste una norma che obbliga i ristoranti ad avere un menù con un prezzo, con una descrizione. Questo è giusto che i consumatori lo sanno, ma ormai viviamo nell'era digitale. Voglio dire, chiunque può accedere dal suo smartphone, dal suo portatile, l'80% delle recensioni che avvengono su internet si fanno su ristoranti. Quindi, come dire, qualche informazione in più bisognerebbe... In effetti, questo specifico ristorante sul più popolare sito di recensioni online aveva giudizi pessimi e un sacco di ex avventori avevano detto, qui si spende tantissimo, avevano messo online gli scontrini da centinaia di euro. I malcapitati turisti di Venezia hanno, dopo che hanno visto il conto e l'hanno saldato, preso carta e penna e scritto una lettera al sindaco, nel quale si sono lamentati, hanno protestato e hanno detto al primo cittadino di Venezia, appunto, questo vi costa la reputazione a voi veneziani. Che cosa ha risposto il sindaco di Venezia? Gianfranco Gatto oggi lo ha incontrato. Sentiamo. Il sindaco, le hanno scritto questa lettera, insomma, questi graditi turisti? Eh, pezzenti, sono graditi turisti. Cioè, uno che mangia e beve, poi dice che non sapeva la lingua, ma se viene in Italia e impara l'italiano, anche un po' di veneziano non farebbe male. Hanno mangiato a ragostra, non è stato niente sul piatto, io ho chiesto al cameriere, ma ti hanno lasciato la mancia, neanche quella. Viene rimandata al mittente, lo scontrino, insomma, è giusto che si hanno pagato, anzi, vorrei fare un plauso al ristoratore che ha emesso lo scontrino, perché dimostra ancora una volta che a Venezia c'è la legalità. Se venite a Venezia, credete a sapere che sia Venezia, dovete spendere qualcosina. E lasciate la mancia anche alle persone che ci sono e che lavorano per voi. Siate benvenuti, ma dovete spendere. Manco la mancia, con 500 euro diciamo che ci esce la mancia. Calugi? Beh, guardi, però, adesso io non faccio il portavoce del sindaco di Venezia, però mi perdoni e mi permette di entrare un attimo nel particolare. Da quello che ho letto, quindi alzo le mani prima, perché come il Presidente abbiamo solo letto di questa questione, i signori si sono mangiati 20 ostriche, una bottiglia di vino, un primo e poi tre chili e mezzo di cosa? Branzini, astici e scampi. Ora, se io vado, i signori sono di Birmingham, quindi non proprio di un posto a poco mercato, sono anglosassoni anche se di origine asiatica. Se io vado all'estero e faccio una mangiata di pesce di questo livello, ora, sono d'accordo con lei, sicuramente qualcosa non ha funzionato fra il ristoratore e il consumatore, se no non saremmo qui a parlarne. Ma è evidente che se ti mangi tre chili e mezzo di pesce di questo livello. Non è poi così tanto? È tanto, ma non è poi così tanto, questo vorrei dirle. Posso interloquire? Io penso che la risposta del sindaco sia la più, come si chiama, significativa. Il sindaco ha teorizzato che siccome vai a Venezia, siccome sei a Venezia, tu puoi essere trattato, come dire, devi metterti nel conto che paghi di più, come se fosse natural. Ma è normale, però in tutte le città funziona, tutte le città d'arte funziona così, e viene di turisti, è così a Firenze, è così a Venezia, è così a Roma. Ma il problema non è se io pago 150, il problema è che ho consapevolezza che sto pagando 150 rispetto, come si chiama, a un prodotto che deve avere certe qualità. A me non interessa tanto sapere se ha mangiato un branzino, voglio sapere se quello è un pescato o per esempio mi viene dall'acquicoltura, voglio sapere se è congelato o se è pesce fresco, perché cambia completamente il prezzo. Non è un caso che lei faceva riferimento, siccome si parla del web, poi io non credo molto a tutte quante queste cose, alla sensazione immediata. In questo caso avrebbero fatto bene invece a crederci, se avessero dato un'occhiata. A crederci, in questo caso sì, perché viene fuori che cosa? Che non erano i primi che vivevano un'avventura di questa natura. Io lo porrei come un problema però più generale, che di questo tipo. I consumatori hanno il diritto e secondo me farebbe bene l'industria della ristorazione italiana a essere anche più attrezzata, a dare un quadro di informazione. Noi siamo un paese che viviamo di turismo, c'è un'economia formidabile che non riguarda solo gli esercizi, riguarda poi i produttori dei cibi, riguarda una serie di persone, ma costa tanto avere una migliore capacità o una maggiore attenzione a specificare che cosa mangia uno, che cosa gli stai offrendo, quanto costa realmente un cibo in maniera tale, se poi ci sono i diritti dei consumatori. Io l'invito che faccio a tutti quelli che si trovano di fronte ad azioni di questo genere, che non sono generalizzate evidentemente riguarda chi non sta dentro le regole, è quello di alzarsi e andarsene senza pagare e rivolgersi alle autorità, oppure pagano o vanno alle autorità o vengono nelle sedi dei consumatori e noi faremo le azioni conseguenze. Se posso interloquire anch'io Presidente, se mi è consentito, io credo che nella stragrande totalità delle situazioni in cui ognuno di noi come cittadino si trova in un ristorante italiano, riceve un menù con i prezzi, riceve la cortesia e l'ospitalità, i ristoranti sono l'ospitalità italiana. Però lei trova se trova pesce fresco o pesce congelato. Ma c'è sempre scritto, ci deve essere scritto, ci dovrebbe essere scritto. C'è scritto, è vero che ogni tanto i commercianti fanno i furbi con i turisti, ma quando li rivedo applicano dei prezzi e con i locali invece prezzi sensibilmente inferiori? Questo non deve mai accadere, se accade è evidente che è una distorsione del mercato e ovviamente non è un aspetto che a noi piace sottolineare, a noi piace anche promuovere. A me piace invece promuovere e sottolineare la vita di qualche milione di italiano che ogni giorno lavora magari quando qualcuno va in vacanza, che dedica la propria vita, la propria famiglia ad un locale che talvolta è aperto dalle 7 del mattino alla mezzanotte se non oltre. Quindi è evidente che talvolta fa più notizia una cattiva notizia, però stiamo parlando veramente di alcuni casi, le stesse ne ha ricordati i casi limiti. Però quello del girato 64 aereo. Ricordo anche al Presidente di Feder Consumatori che mentre tranne casi eccezionali non si può vendere sotto costo, non c'è nessuna legge che impone un tetto verso l'alto a qualunque bene o servizio, se io voglio far pagare un caffè 500 euro al banco o al tavolino sono libero di farlo e poi mi taglio fuori dal mercato. Perché però lo metti in maniera chiara e trasparente. Siamo in un mercato, fra l'altro anzi c'è un divieto opposto, da parte nostra c'è l'impossibilità di indicare dei prezzi, altrimenti andremo contro la libera concorrenza di mercato. Si, però la libera concorrenza del mercato non presuppone il fatto che tu non metti chiaramente che un caffè ti costa 500 euro. Ma quello l'abbiamo acclarato. Grazie a Emilio. No, c'è un altro dato, scusi, volevo sottolineare un dato. Siamo in chiusura. La consumazione al tavolo non c'è scritto da nessuna parte quanto tu paghi se ti siedi al tavolo. Lo sai quando vai a pagare? In alcuni c'è, in altri no. In questa cosa ti dovrebbe essere venuta chiara. È una zona grigia sulla quale sarebbe bene fare luce. Grazie a Via Fora e grazie anche a Roberto Calugi per essere stati con noi. Cambiamo argomento, siccome si vive di più...